Spesso gli eroi sono silenziosi, hanno quasi una doppia vita, innanzi a tutti sembrano delle creature mansuete, per nulla offensive, che possono passare in il secondo piano, ma lui dentro di sé nasconde il furore di una bestia, una velva selvaggia. Una velva selvaggia pronta a spezzettare gli addicari avversari sotto i suoi fendenti, per il Carlinox. Solo lui ce la può fare, è il prescinto. Guardate come dormi con chiarezza, braccia concerti. Siamo tutti d'accordo su questo? Siamo tutti d'accordo su questo? Siamo d'accordo? Siamo tutti d'accordo su questo? 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.